Il villaggio VIP della Scala dei Turchi. Quattro condanne per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato e otto rinvia giudizio. L'inchiesta regge così al vaglio processuale. Il giudice Francesco Provenzano nella tarda mattinata ha concluso l'udienza preliminare. Quattro mesi di arresto e 4.000 euro di multa sono stati inflitti ad Antonino Terrana, 60 anni, dirigente della soprintendenza, e Giovanni Francesco Barraco, 57 anni, direttore dei lavori. Otto mesi di arresto e 14.000 euro di multa per Gaetano Caristia, 72 anni, presidente della società siracusana Comaer, che stava realizzando il complesso di villette a schiera, e Sebastiano Comparato, 83 anni, legale, rappresentante e socio maggioritario della stessa società. Il giudice per un errore aveva anche letto nel dispositivo la condanna dell'architetto Giuseppe Vella, funzionario del comune di Real Monte, su cui invece doveva decidere solo se disporre il rinvio a giudizio. Dopo essersene accorto è rientrato in camera di consiglio e ha corretto l'errore materiale. Vella andrà a processo a partire dal 5 novembre davanti al giudice Alessandro Quattrocchi, insieme agli altri sette imputati. Si tratta di Giuseppe Farruggia, 64 anni, ex sindaco di Real Monte, nonché progettista della lottizzazione Comaer. Cristoforo Giuseppe Sorrentino, 54 anni, tecnico dell'ufficio tecnico di Real Monte, responsabile del procedimento della lottizzazione Comaer. Daniele Manfredi, 57 anni, direttore dei lavori. Giovanni Farruggia, 61 anni, direttore dei lavori per le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione Comaer. Vincenzo Caruso, 62 anni, dirigente del servizio per i beni paesistici della soprintendenza e beni culturali di Agrigento. Agostino Friscia, 65 anni, dirigente della soprintendenza. E Calogero Carbone, 65 anni, dirigente della soprintendenza. I principali reati contestati erano l'abuso di ufficio, la lottizzazione abusiva e la violazione della normativa edilizia. L'abuso di ufficio, peraltro inserito in un secondo momento, è stato escluso dal giudice, sia per gli imputati condannati in abbreviato. Gli avvocati Giuseppe Scozzeri e Luigi Restivo hanno già annunciato appello, che per quelli dell'udenza preliminare, difesi tra gli altri dagli avvocati Leonardo Marino, Vincenzo Caponnetto e Alessandro Patti. Per questo, infatti, il processo non si celebrerà davanti al Tribunale collegiale.